Sono Nino, Chief Operating Officer di Banca per Affari Italiani. È stata presentata oggi il nuovo Executive MBA in collaborazione con l'Università di Fabia per formare i nuovi manager nel mondo digitale. Quali sono le novità di questo Master? La novità è innanzitutto che è un Master che vuol formare degli Executive e quindi vuole dare la possibilità a chi già nel mondo del lavoro di entrare ancora di più ma soprattutto di conoscere anche i cambiamenti che la tecnologia sta portando a tutti i processi che ci coinvolgono. Noi siamo una banca, la digitalizzazione è un elemento fondamentale, i nostri processi stanno cambiando, la nostra relazione col cliente sta cambiando e anche formare manager che possono essere anche nostri stessi dirigenti oppure dirigenti di altre aziende, di altri settori, di altre industrie diventa fondamentale per riuscire a creare anche un ecosistema che consente secondo noi a migliorare anche tutto il paese. E quindi è importante tra l'altro per noi che siamo vicini al territorio e che siamo su Pavia storicamente molto presenti dare un contributo a questo tipo di iniziativa. Questo Master si rivolge a professionisti che già operano nel mercato del lavoro da 5 anni quindi professionisti di un certo livello. Certo, sì effettivamente è proprio questo uno degli elementi distintivi perché si vuole creare un momento di formazione a quelle professionalità che hanno già avuto la possibilità di avere certe esperienze, hanno già avuto contatto col mondo del lavoro e direi un contatto abbastanza serio, abbastanza prolungato, che però li possa aprire da un punto di vista mentale, da un punto di vista di network anche con altri e consentirgli di applicare poi, una volta ritornati nelle loro posizioni, questi nuovi contenuti e questa loro esperienza. E a quali tipi di professionisti in particolare si rivolge? Sostanzialmente in questo momento, adesso lo stanno ancora delineando, soprattutto le strutture dell'università, però abbiamo candidature relativi a dirigenti, a manager di aziende pubbliche, aziende private, professionisti invece che vogliono crescere nel loro settore e quindi fare un percorso che magari li può portare anche a diventare manager in aziende strutturate.